Punti nella zona bassa, va bene per il Giulianova che si porta a 26-24 punti, il Celano spacciata virtualmente la Villa Cidrese che sembra destinata alla retrocessione. Adesso vediamo il servizio sul derby tra Celano e l'Aquila curato da Berardo Aurini. Quarto successo consecutivo per l'Aquila di Gianni che espugna anche lo stadio Piccone e si conferma la compagine più in forma di questo finale di stagione. Salgono a sé invece le sconfitte di fila per un Celano sempre più in caduta libera nonostante oggi non abbia del tutto demeritato. Nel primo tempo i padroni di casa esercitano un maggiore possesso di palla mentre gli ospiti agiscono prevalentemente di rimessa trovando maggiori spazi e dunque più frequenti opportunità di rendersi pericolosi. Poche però le insidie vere per i due portieri. La gara si decide invece nella ripresa. Al tredicesimo Walter Piccioni, il migliore in assoluto, difende bene la sfera e serve un assist che Stamilla non può fallire. 1-0 l'Aquila. Al diciottesimo un rimpallo favorisce ancora Stamilla, chiude Liverani. Al trentunesimo Falconieri appena entrato si mangia da solo mezza difesa e segna un gol straordinario che fa schizzare dalla panchina anche il tecnico Gianni. Per lui e per la sua squadra un'altra giornata da incorniciare. In pieno recupero poi Testa nega al Celano anche il gol della bandiera togliendo dall'incrocio la perentoria inzuccata di Rapino e subito dopo Bacchi salva su Galli a portiere battuto. Siamo all'Angelini di Chietiro dove vittoria doveva essere per i Neroverdi e vittoria è stata.